Sì, adesso partiamo, eh? Vediamo la chiave. Cambiamo. E la serratura si era a vuoto. Nel frattempo tiriamo fuori due o tre cose, eh? Sì. 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 non ho fatto non lo so che sono entrato oggi è il pelle infatti non può solo tutto e ci dobbiamo dare il pelle non può solo tutto sono tanti sono tanti sono tanti sono tanti ho questa che aveva 10.000 punti non so non so ho trovato un cavallo che faceva bene è il peggio nuovo 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 che è il peggio nuovo ma lo so è il peggio nuovo è il peggio nuovo non so non c'è è il peggio Ahora vendoli Grazie, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.